Salve amici del Centro Meteo Italiano. Circolazione depressionaria insiste sull'Italia, determinando condizioni di maltempo a tratti intenso. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per giovedì 11 giugno. Al mattino temporali sparsi su coste del medio-alto Tirreno e al nord-est, con locali piogge anche sulle Alpi Occidentali. Tempo più asciutto altrove. Al pomeriggio di stabilità diffusa al centro-nord, con acquazioni e temporali sparsi anche di forte intensità. In serata e in nottata, fenomeni temporaleschi ancora presenti sulle regioni padane e sui rilievi appenninici, ma in lento esaurimento. Nubi in aumento al nord-ovest, con deboli piogge diffuse. Le temperature sono attese generalmente stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per tutti i dettagli vi invitiamo a consultare le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.